Intesa raggiunta, dopo uno stop di sei mesi il battello spazzino dovrebbe tornare all'opera in pochi giorni. Situazione d'emergenza con le acque del primo bacino dell'ario che complici le abbondanti piogge dell'ultimo periodo, soprattutto in Alto Lago, sono diventate un acquitrino sporco e maleodorante come denunciato in questi giorni da residenti, turisti e operatori. Acqua in condizioni pessime, tra rifiuti, legname e sporcizia varia trascinata dalla corrente, battello spazzino fermo si è detto da dicembre dello scorso anno per un impasse tra amministrazione provinciale, titolare del natante, e comune di Como, gestore effettivo del servizio. Problemi economici alla base dell'incomprensione, incomprensione superata in queste ore dopo i contatti avvenuti tra l'assessore Alverde, Bruno Magatti, e il commissario provinciale Leonardo Carioni, che si è detto pronto a risolvere il problema quanto prima. È sufficiente infatti una firma in calcio a un documento, discusso in queste ore tra le due amministrazioni, carta che definisce competenze di partizione dei costi. Il lago di pertinenza provinciale, spiega Magatti, i detriti per la maggior parte arrivano dall'Alto Lago ed era paradossale che fosse la città a farsi carico dei costi di pulizia. Stando alle intese, la provincia dovrebbe coprire i costi della pulizia fino a 35 mila euro l'anno. L'impasse dei mesi scorsi si era concentrato su chi dovesse coprire l'IVA di tale spesa. L'intesa ora c'è con la chiusura della provincia, decisa dal governo, la procedura è nettamente più snella. È sufficiente la firma del commissario Carioni, che come detto ha fatto sapere di essere pronto a sbloccare la situazione.